Ma è cambiata soprattutto una cosuccia che ha destabilizzato milioni di studenti La maturità Ma cosa sta facendo? Guardi che l'aula è stata già igienizzata Non si sa mai No, un secondo solo che deve entrare la mia famiglia Ma come la sua famiglia? Sia tranquillo, sono pochissime persone Chiamo anche nonno Dove le metto le lasagne? Ma è vietato, può portare una sola persona con la mascherina per giunta Se ne vada immediatamente Ma si è già finito sto maxi orale? Ma aspettavo peggio Grazie, arrivederci Facciamo finta di niente? Cari ragazzi, controllate sempre le fonti delle notizie Leggete gli articoli per intero e fate attenzione alla data di pubblicazione È fondamentale sempre essere aggiornati E consultare notizie sui siti ufficiali Diffidando da messaggi o news Che non siano direttamente verificabili attraverso la fonte di provenienza E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti Noi non vogliamo far mancare il nostro grande In bocca all'uomo a tutti voi Noi non vogliamo far mancare il nostro canale